Buonasera ragazzi, nell'invitarvi a iscrivervi al mio canale, a continuare a seguirmi attivando e cliccando anche la campanella. Ci prepariamo quindi a parlare di questo Roma-Torino 1-0, partita chiave del campionato dei giallorossi, una partita proprio strategica che avevo presentato come una gara difficilissima, anche tenendo conto del fatto che il Torino aveva creato grandissimi problemi a due squadre molto forti, le capoliste Milan e Napoli, dove il Torino in trasferta ha perso in entrambi i casi per 1-0, creando tantissimi problemi, è stato esattamente così anche oggi, ma prima di parlare di Roma-Torino, finita 1-0 con la rete di Ebram nel primo tempo, poteva avere una storia molto diversa se a pochi minuti dalla fine della prima frazione l'abito il signor si chiama Kiffi, Kiffi, è un nome difficile da ricordare, avesse confermato il rigore dato che Ebram stava per calciare, ma Lavar ha detto no per un fuorigioco, all'ultimo momento è rimasto il risultato su 1-0 ed è diventato quindi un secondo tempo di grande sofferenza. Ma prima di parlare di questo, ripeto, volevo affrontare un po' un argomento di cui si sta parlando molto in queste ore, è accaduto ieri al termine della gara Empoli-Fiorentina vinta dai Toscani di casa per 2-1 in rimonta, proprio nei minuti finali, con la rete recidiva all'89 del Trentino ex Inter Pinamonti, all'uscita dallo stadio, la giornalista 27enne dell'emittente Toscana TV Greta Berkali, a 27 anni, è stata letteralmente vittima di un episodio vergognoso e veramente becero nella sua stupidità, mentre la giovane giornalista stava con sullo sfondo i tifoti che uscivano dal Cassellani di Empoli, stava facendo un po' la cronaca del assunto, tirando le somme di questo derby di Toscana, come sto facendo io oggi, in questo momento al termine di Roma Torino, anche se io sto a casa, perché lei è una giornalista proprio che fa quello come lavoro, e mentre parla incredibilmente, pascia un tifoso, uno pseudotifoso, e con nonchalance assoluta, come se fosse la cosa più normale del mondo, molla una pacca sul culo, perché di questo si tratta, della malcapitata Beccaglia, che quindi viene praticamente umiliata, mentre tra l'altro sta lavorando, tra l'altro, la giornalista, ripeto, di Toscana TV viene umiliata davanti agli spettatori, veramente trattata come un oggetto, e poi altri tifosi, anche lì, battutacce, gestacci, c'è un tifoso che ha fatto l'indice medio alle telecamere, eccetera, eccetera, ma soprattutto, capite che c'è un confine fra l'insulto, che già è da condannare, eccetera, ma quando si va a violare l'intimità, la dignità della donna, con un gesto così scurrile, la pacca sul sedere la dai alla tua donna, alla tua figlia, alla tua sorella, forse già a tua sorella non gliela dai, è un gesto molto di grande intimità, una persona che non conosci, una cosa veramente avvilente, tra l'altro c'è anche una polemica, perché da studio il giornalista dice non te la prendere, invece di condannare il gesto, non ci pensare, non ci pensare, certamente il gesto non è una violenza sessuale, però è molto umiliante, secondo me è molto umiliante, perché è come dire, a parte la visione della donna come donno oggetto, ma è come dire, ma chissà, pallate calcio tu, addirittura è stata criticata, perché la ragazza era vestita, secondo alcuni, in un modo provocante, ma la beccaglia è una bella donna, come ci sono tantissime giornaliste che sono belle donne, ci sono tantissime belle donne in giro, non occorre arrivare alla televisione, basta andare nei supermercati, ci sono tantissime cassiere molto avvenenti, non è mica un motivo per mettergli le mani addosso, si era criticato, aveva un paio di jeans, si è avuto un vestito succinto, poteva anche uno fare qualche riflessione, ma se non ti puoi più in mente manco i jeans, per stare tranquilla, non lo so io, quindi gesto innanzitutto di una stupidità rivelatrice di quello che è il livello di queste persone, perché tu vai a dare una pacca sul sedere a una che, mentre è in diretta televisiva, non hai neanche una sciarpa, dice mai, hai una sciarpa sul volto, ma che? Poi ho avvolto scoperto, io ho pensato un po' a questa cosa oggi, penso, spero, mi auguro che fossi ubriaco, se fossi l'avvocato di questa persona, direi questo è completamente ubriaco, se sono minimamente conto di quello che stava succedendo, perché altrimenti non avrebbe mai fatto una cosa del genere davanti alle telecamere, io la difesa la imposterei così, però insomma, è un'epoca molto particolare per quanto riguarda la violenza contro le donne, come sapete, ci sono tantissimi casi di femminicidio, se ne palla tutti i giorni, non c'è quasi un giorno, senza un episodio di cronaca di questo tipo, quindi non è più accettabile un atteggiamento del genere, un comportamento del genere, indipendentemente dal fatto che questa fosse una giornalista che stesse sul posto di lavoro, stesse lavorando, se anche fosse stata, se fosse una donna che stava passando lì per i fatti suoi, cioè non è accettabile, questa è una molestia che nel 2021 non si può più tollerare, insomma, quindi solidarietà a Greta Beccaglia, il giornalista da studio, del quale in questo momento non ricordo il nome, secondo me, diciamo che ha cercato un po' di confortarla, in quel momento, è stato un modo di invitarla ad andare avanti, ma è stato molto criticato per queste parole, non te la prendere, te la prendere, vuoi vedere, se la tua figlia ti danno una pacca sul sedere davanti a tante persone che stanno venendo, se non te la prendi poi, però lui secondo me è stato un po' equivocato, cioè lui ha cercato di superare questo momento difficile per darle la forza di continuare come la ragazza ha fatto, però è chiaro che l'umiliazione, l'offesa ormai era stata arriccata e certamente non sarà tornata a casa di buon umore, anche se poi alla fine paradossalmente se ne parlerà tanto di questa cosa, quindi diventerà anche una forma promozionale, diciamo pubblicitaria, ma non è questo però l'oggetto del tema del discorso, il tema del discorso è che le donne vanno rispettate, ragazzi, la donna non è un oggetto, non è concepibile una cosa del genere, ancora solidarietà quindi a Greta Beccaglia che tra l'altro è stata anche brava poi a continuare perché io al posto tuo avevo proprio mollato tutto, avevo detto ma io non posso andare in queste condizioni e avevo allertato immediatamente le forze dell'ordine, comunque è andata così, adesso andiamo avanti, parliamo di questo Roma-Torino, ripeto partita importantissima per la Roma, tra l'altro che nelle ultime due partite riuscì nell'impresa di rimontare sei punti al Milan, Milan battuto prima a Firenze, oggi a sorpresa in casa con il Sassuolo era passato in vantaggio ma viene rimontato con una doppietta straordinaria dell'ex Roma, Gianluca Scamacca nel giro della nazionale, giocatore interessantissimo secondo me, ex Genoa, anche ex Genoa molto lottavo fisicamente, poi il terzo gol Berardi e quindi il Sassuolo vince a Milano è battuto all'arresto preoccupante per il Milan che forse aveva ancora la testa alla Champions all'impresa di Madrid quando, visto che in settimana è riuscita a passare sul campo dell'Atlerico, il difficilissimo campo dell'Atlerico con una rete di Messias di testa che inizia e conclude l'azione e continua e mantiene in corsa ancora il Milan per proseguire la sua corsa appunto in Champions. con questa vittoria di oggi la Roma tornando a parlare di Roma in classifica ti porta al quinto posto a 25 punti al quarto posto l'Atalanta ormai una certezza del nostro campionato a 28 l'Atalanta ha battuto come sapete ieri la Juventus all'Ossedium risultato a dir poco clamoroso visto il momento difficilissimo che stava attraversando la Juventus che veniva dal 4-0 di Londra al terzo posto l'Inter che ha vinto a Venezia 2-0 a 31 punti il Milan abbiamo detto a 32 ancora primo ma ha perso col Sassuolo a pari punti con Napoli che stasera ce la vedrà al Maradona al vecchio San Paolo con la Lazio dell'ex Sarri Maurizio Sarri privo naturalmente della sua prima punta più importante Vittor Osimelna che ne aveva per tre mesi dopo il bruttissimo infortunio subito contro l'Inter nel contrasto con Mila Schirina di testa che ha rotto la faccia praticamente Osimelna è stato operato e ha bisogno di molto tempo per recuperare quindi situazione di classifica molto interessante la Roma nel prossimo turno va a Bologna Bologna oggi ha vinto a Spezia 0-1 con un calcio di rigore nel finale realizzato dal centravanti austriaco Marco Arnautovic squadra a Bologna che sta facendo un grande campionato ma molto lunatica alterna sconfitte impreviste a grandi expo squadra complicata proprio perché lunatica quindi imprevedibile vincere a Bologna non sarà facile non sarà facile poi c'è Roma-Inter Roma-Inter è purtroppo una partita difficilissima dico subito non metto la firma per il pareggio lo dico subito praticamente la Roma di Murigno ha dimostrato anche oggi che potrebbe imbrigliare l'Inter come ha fatto con il Napoli in casa se giocherà una partita simile a quella di oggi però l'Inter ha un livello tecnico talmente alto e tante frecce al proprio arco tante soluzioni tra l'altro una delle più importanti è proprio quella dell'ex della Roma di Bosniaco Edingeco che sarà un po' il pericolo pubblico numero uno di fronte ai suoi vecchi tifosi quella è una partita molto complicata ma andiamo con ordine oggi la Roma è scelta in campo con il modulo che ho invocato da tempo il 3-5-2 ma è un 3-1-4-2 veramente tre difensori e la prima cosa da dire di questa partita è che come tante volte ho detto c'è una Roma con Smalling e una Roma senza Smalling anche oggi Chris Smalling ha guidato con la sua forte personalità con la sua sostanza con la sua capacità sulle palle alte la difesa giallorossa ha praticamente cancellato dal campo Andrea Belotti che comunque si vede che non ha recuperato ancora bene dagli infortuni questi infortuni tendinei che ha avuto oggi è uscito più che altro credo per problemi muscolari ma è stato letteralmente cancellato dal campo ma si vede proprio da come corre Belotti che non è in buone nelle sue migliori condizioni è macchinoso è più macchinoso di quello che uno lo ricordava è già macchinoso di suo perché esteticamente non è proprio elegante Belotti ma si vede sembra quasi fare fatica a correre come se corre ma è come se c'esse dei dolori da qualche parte mi dà questa impressione qua Smalling ha fatto la differenza e credo che senza Smalling la Roma non avrebbe vinto questa partita soprattutto nel secondo tempo sulle palle alte ha annullato letteralmente gli attaccanti Granata Torino in campo con il 3-4-2-1 prima vi do la formazione del Torino con Savic il fratello di Milico Savic altissimo portiere Granata con poi una difesa a 3 Didigi Bremer Mediana Singo Lukis Pobega Voivoda poi Brecalo e Praet il belga Praet hanno agito alle spalle della prima punta Belotti non c'erano sempre per infortunio Ansaldi Edera Mandragora Rodriguez Simone Verdi quindi 5 giocatori mancavano al Torino ne mancavano però 5 anche alla Roma oltre al lungo De Gente Spinazzola Veretù che era squalificato Vigliare Crissante entrambi out perché positivi al Covid e Calafiori anche lui infortunato ripeto ha abitrato l'abito Chiffi diciamo che è un 3-1-4-2 più che un 3-5-2 va bene un 3-1-4-2 ma comunque il concetto che io portavo avanti il primo a parlare è stato Roberto Pruzzo c'è una difesa 3 perché sia una difesa 5 in fase difensiva questo è il discorso e due punte due punte perché Abram Ebram e Zaniolo possono essere una coppia sicuramente ma anche io credo che anche Mkhitaryan e Ebram potrebbero essere una coppia comunque oggi a lui Patricio fra i pali Mancini Smalling Gibagnez Diavara ha agito davanti alla difesa un po' alla Pizarro se vi ricordate nel gioco di Spalletti ma Diavara proprio non ha né i movimenti né la visione di gioco di Pizarro poi la linea mediana a destra e a sinistra l'olandese Cardo Pellegrini presto infortunato si è sostituito da Carles Perez Mkhitaryan a sinistra El Sharawi che Mourinho sembra tenere in grande considerazione giustamente poi tra l'altro perché negli episodi il faraone quest'anno è molto spesso decisivo e determinante davanti uno straordinario Nicolò Zaniolo e Ebram che ha marcato la rete su uno strepitoso assist di Mkhitaryan nel primo tempo Zaniolo devastante fondamentale tatticamente in questa partita con i suoi strappi con le sue accelerazioni ha letteralmente abbattuto lo scacchiere difensivo di una squadra rognosissima complicatissima ti fa giocare male gioca male non gioca spezza il gioco intasa tutte le linee di passaggio una squadraccia una squadra difficile da battere con molti gol però ripeto questa partita avrebbe avuto una storia completamente diversa se mi pare che fosse il 36 per il primo tempo fosse stato confermato il calcio di rigore dal VAR per un fallo mi pare su El Sharaoui non mi ricordo bene no forse mi sbaglio mi pare che su El Sharaoui Ebram è stato 5 oltre minuti sul dischetto a aspettare di calciare ma non si può però un giocatore non può stare 5-6 minuti perché uno si deconcentra a un certo punto si è messo anche a palleggiare non ce la faceva più aspettare perché è rimasto a lungo e completamente immobile concentratissimo Ebram che come io ho già ricordato in un video precedente è un rigorista il Chelsea ha calciato di rigore anche bene quindi io penso che tra l'altro avrebbe segnato perché Milinkovic Savic è un portiere molto alto quindi sicuramente avrebbe tirato rasoterra basso dove il portiere molto alto non arriva avendo visto come calcio a rigore Ebram spesso tira delle bordate sulla destra del portiere rasoterra un po' alla Totti per capirci penso che abbia segnato però bisogna rivedere qualche cosina perché non si può ripeto tenere uno stadio 5-6 minuti ad aspettare una decisione bisogna velocizzare c'era una contestazione su un fuorigioco perché il fallo c'era ma c'era un fuorigioco si può stare 5-6 minuti perché voglio dire proprio non so se mi spiego è proprio lo show che viene troppo interrotto cioè televisivamente la gente sta lì tra l'altro oggi da zona un disastro un macello ormai non ne parlo neanche più e quindi alla fine ti girano un po' le scatole insomma perché sicuramente tutto quei 6 minuti ci hanno messo per prendere una decisione e là sarebbe cambiare la partita sul 2-0 il Torino nel secondo tempo avrebbe dovuto fare tutta un'altra partita avrebbe dovuto pigiare proprio il piede sull'acceleratore dal primo minuto e avrebbe lasciato degli spazi delle praterie per le scorribbande dei vari Zagnolo e Sharawi invece sull'1-0 è rimasto tutto in bilico e fino alla fine devo dire anche quando è entrato Sanabia nei minuti finali l'ex Roma Sanabia che è un giocatore che ha dei colpi sempre molto pericolosi anche se non è molto continuo come giocatore però ha diverse diversi conigli da tirare fuori dal suo cilindro magico abbiamo sofferto fino alla fine io a inizio stagione avevo detto preparatevi a vedere partite tante partite che vinceremo 1-0 soffrendo fino alla fine una è stata per esempio Roma-Odinese questa è un'altra perché anche Roma-Sassuolo ha vinto al novantesimo 2-1 proprio al novantesimo partite tiratissime contro squadre che non sono magari delle grandi squadre ma sono squadre molto complicate ben messe in campo perché il Torino tecnicamente c'è molto inferiore però ha messo veramente bene in campo Juric non è veramente uno scemo l'aveva dimostrato anche a Verona l'anno scorso è uno che la squadra ha giocatori motivati giocatori ben allenati fino alla fine questo risultato anche se poi non hanno avuto queste occasioni perché comunque la difesa ha retto molto bene però c'era sempre questa sensazione che tutto sommato bastasse non so una punizione dal limite o buttare qualche palla sporca e mezzo per trovare magari una deviazione vincente ma non importa quello che importa avere portato a casa i tre punti tre punti non d'oro ma di platino la Roma era partita molto bene aveva avuto una flessione molto forte che addirittura ha messo in discussione perfino la figura di Murigno che noi abbiamo sempre difeso la tifoteria si è schierata con questo allenatore vediamo che i risultati stanno arrivando il portoghese è stato abile a cambiare modulo ha capito che quella difesa a quattro era era sguarnita perché non c'era abbastanza filtro quindi i giocatori molte volte venivano lasciati nell'uno contro uno soli abbandonati da se stessi e tecnicamente gente come Kasdoth ma stesso anche Vigna anche Calafiori non hanno questo livello tecnico proprio che è una garanzia quindi bisogna intasare filtrare mettere una diga lì davanti ci siamo riusciti con questo assetto che migliorerà ancora perché non abbiamo ancora Pinazzola non abbiamo ancora Peretù non abbiamo ancora lo stesso Cristante Vigliar non so come si potrà inserire in questa squadra e a gennaio naturalmente arriverà qualcuno ora noi cosa dobbiamo fare dobbiamo avere la capacità di galleggiare intorno a questa quinta posizione fino a gennaio questo deve essere il nostro obiettivo per quello io dico vinciamo a Bologna e paeggiamo con l'Inter vi dico la verità io mi accontento anche di vincere a Bologna e di perdere con l'Inter vi dico la verità perché tutto sommato io penso che l'Inter mi sa che tira aia che potrebbe anche vincere il campionato quindi credo che considerando la forza dell'avversario una sconfitta purtroppo ci potrebbe anche stare ma non sarebbe una tragedia importante invece vincere a Bologna perché quello è un campo dove bisogna vincere la partita però non è facile dobbiamo galleggiare dobbiamo arrivare a gennaio massimo sesti proprio massimo sesti abbiamo la fortuna quest'anno di questa Juventus che ha dei gravissimi problemi tecnici direi perché è proprio il centrocampo che non fa gioco gioca a strappi e a sprazzi questa squadra ma ha una mediana come tante volte ho detto la Juve ha degli equivoci Rabiot McKennie Arthur Ramsey c'è ancora Ramsey non mi ricordo più ci sono giocatori in mediana che non hanno la qualità voi dovete interrogarvi sul perché Cristiano Ronaldo se n'è andato Cristiano Ronaldo se n'è andato perché ha capito che con la Juve più di tanto non si riesce a fare la società abbiamo visto che ha anche delle difficoltà finanziarie quindi ha capito che era meglio cambiare l'aria tra l'altro a Manchester non gli sta andando proprio bene ma probabilmente questo non lo poteva sapere prima la Juve ha il problema centrocampo molto semplice a gennaio deve comprare dei centrocampisti devono essere molto più forti devono alzare molto il livello di questa squadra negli ultimi giorni girava anche questa voce Olanda giocatore norvegese fortissimo che io penso che prima o poi arriverà nel nostro campionato sarei molto curioso di vederlo nel nostro campionato ma non è neanche quello il giocatore di cui abbiamo la Juve ha bisogno di registi giocatori alla Pirlo per intenderci ha bisogno di questo tipo di giocatori qui e non li ha non li ha e quindi la squadra che è anche un po' locora dopo tante vittorie eccetera soffre mentre invece appare in grande spolvero l'Atalanta che è una squadra che ormai è una realtà del nostro campionato e meriterebbe di vincere uno scudetto solo per quello che ha fatto e combinato negli ultimi 3-4 anni squadra praticamente provinciale che sta facendo cose straordinarie costantemente in Dona Champions io non pensavo che sarebbe riuscito a rimanere a questi livelli per tanto tempo invece Gasperini e i suoi mi stanno smettendo la Roma deve rimanere come dicevo galleggiare su questo quinto sesto posto e poi a gennaio a zeccare questi due cambi che ti fanno la differenza questi due rinforzi però ripeto ancora una volta c'è una Roma con smalling e una Roma senza smalling e questo alla lunga diventerà un limite iscrivetevi al mio canale attivate la campanella e buona serata a tutti